Zetto trova bene Stipanci spalla la porta controlla con la suola si gira vada Ciriello il controllo a seguire il sinistro ed è un gol bellissimo anche questo da parte del numero 11 Gianluca Ciriello bella tra l'altro tutta la costruzione dell'azione conclusa con la verticalizzazione da parte di Stipanci il controllo a seguire di Ciriello che ha fatto secco prima il suo diretto marcatore e poi l'estremo difensore avversario